benvenuti o bentornati sul canale portale sanità digitale sono gennaro ricchio in questo video vi parlo di accessori periferiche per il computer dello studio medico dell'inogni responsabilità per il non corretto funzionamento delle periferiche acquistate sotto nella descrizione del video trovate il link per scaricare il file pdf di questa presentazione e i link affiliati per ricercare rapidamente su amazon i prodotti recensiti i marchi di terzici dati appartengono ai rispettivi legittimi proprietari quali accessori periferiche in questo video vengono recensite gli hub usb mouse e tastiere pendrive hd ssd esterni webcam lambda per pc e gruppo di continuità allora veniamo prima di tutto però definiamo quelle che sono le possibili connessioni delle periferiche al computer bisogna distinguere poi da pc fissi a computer a notebook portativi i notebook sicuramente dispongono nella stragrande maggioranza dei casi di tutte e tre i tipi di connessione cioè usb wifi e bluetooth il ne pc fissi e in genere bluetooth wifi non è non è presente quindi va prima di tutto preso in considerazione questo aspetto veniamo vediamo nei dettagli quali sono i tipi di connessione quindi abbiamo prima di tutto l'usb universal stereo bus collegamento è un collegamento tramite cavo di periferiche al computer qui sotto vedete i vari tipi di cavi usb disponibili questo è il cavo tipo maschio tipo a sem maschio tipo b questo è il cavo tipico che collega la stampante al pc questo va dietro la stampante questo ha collegato al pc poi qui vedete il tipo il tipo c il tipo c è l'ultimo e l'ultimo standard disponibile questo tipo di connettore usb è disponibile diventato un po lo standard oltre che sui pc in in particolar modo i notebook e disponibili anche sugli smartphone tablet di ultima di ultima generazione poi per quanto riguarda invece le connessioni wifi sia wifi che bluetooth sono tramite onde radio la bluetooth in particolar modo è onde radio a curto raggio ha una frequenza diversa ovviamente frequenza radio diversa dalla wifi e bluetooth è utilizzato in genere per collegare non solo periferiche quali possono essere tastiere mouse ma anche per collegare cuffie microfono o quant'altro disponga di questo tipo di di connessione cuffie audio allora adesso prima di tutto l'utente il medico è bene individuare il numero di porte usb che sono presenti sul pc qui vedete la parte frontale di un pc parte di una parte frontale e questo è il retro del pc come vedete nella frontale ci sono quattro porte usb sul sul retro sono disponibili sei porte usb dieci dieci possibili possibili connessioni quindi è un è un buon numero invece per quanto riguarda i notebook in genere hanno solo due tre porte porte usb quindi in quel caso sicuramente si rende necessario un hub usb l'hub usb è un dispositivo che espande una singola porta usb universa serie a bass in più porte qui recensisco un tipo particolarmente economico provvisto di interruttori non è non dispone di alimentazione indipendente sempre collegato al pc per essere poi alimentato sotto qui in tutti i prodotti che vengono recensiti d'ora in poi sotto qui nel sull'angolo in basso a sinistra trovate il link affiliato per amazon per andare per andare poi a ricercare rapidamente questo tipo di prodotto per quanto riguarda gli hub usb io qui recensisco tre tipologie questa è una versione intermedia qui sono sempre sette porte ma comunque non non è non ha un'alimentazione indipendente link affiliato trovate trovate qui e quello che invece io consiglio diciamo sicuramente è questa tipologia che ha un alimentatore un'alimentazione indipendente sono dieci sono dieci porte e allora le le porte usb specialmente sui notebook dove se si collegano frequentemente tutti i giorni si impegna la porta usb si si attacca il cavo e si stacca sono soggetti ad usura quindi è preferibile utilizzare un supporto esterno un hub usb come dire sottoporre a stress comunque non il pc ma questo supporto esterno che poi nel tempo può essere sempre sostituito questo è il link che trovate per la filazione come vi dicevo questo dispone di di un'alimentazione in indipendente per quanto riguarda invece l'ultimo standard sui nuovi notebook anche sui nuovi pc è disponibile la connessione usb c come abbiamo visto che questo di questo tipo di di connessione piccola disponibile anche su smartphone e tablet e questo è un adattatore un hub che converte da usb c a usb 3.0 diciamo avete visto che come standard c'è usb 3 usb 2 usb 1 usb 2 usb 3 comunque il 3 diciamo e si identifica rapidamente perché di colore di colore blu rispetto rispetto agli altri in questo caso sono sono quattro sono quattro porte e veniamo adesso a un altro tipo di periferiche periferiche di input che mouse e tastiera mouse e tastiera sono quei tipi di periferiche che sono soggetti ad usura soggetti ad usura e dove anche viste che si mettono le mani sopra va considerato anche poi l'aspetto l'aspetto incinico qui recensisco un tipo particolarmente economico con il cavo allora per chi non ha difficoltà sulla scrivania ad avere i cavi quindi io suggerisco sempre il cavo perché non si devono gestire dove non si devono gestire batterie e smaltirle ed altro quindi questa è una buona soluzione per sostituire spesso questo tipo di periferiche per avere poi anche un attenzione come dicevo anche all'igiene questo è il link che trovate poi ovviamente sono disponibili anche delle versioni in questo caso logitech 18 euro e 19 quindi è un costo che non è molto più alto sicuramente la qualità è un po migliore rispetto al precedente quindi questo è il kit completo mouse e tastiera per chi non gradisce i cavi sulla scrivania c'è disponibile la versione senza cavi questa è un entry level 24 euro in sostanza come vedete anche qui il prezzo consigliato il prezzo in questo momento c'è una riduzione di 11 euro perché come per come abbiamo visto nella guida per l'acquisto dei computer anche per gli accessori il momento migliore per per comprare e sono i mesi estivi luglio agosto dove i prezzi scendono come vedete anche in questo caso del 31 del 31 per cento venendo ai mouse singolarmente mouse singolarmente come vedete questo è economicissimo logitech a mille comunque mille dpi che la sensibilità di puntamento che mille dpi possono anche bastare per applicazioni per ufficio tipo la cartella clinica e gestionale di cartella clinica per altri tipi di software tipo di grafica di progettazione sono richiesti valori ben più alti di dpi per garantire una precisione nel puntamento del del mouse del cursore qui vediamo un'altra tipologia un'altra tipologia di periferiche gaming che mi consente di andare a chiarire una tipologia di periferiche tutto ciò che per il gaming sono progettati hanno materiali diversi dal 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 normale perché il gaming sicuramente sottopone gli accessori a maggiore stress perché il gioco richiede poi un intervento sul sui pulsanti diverso da un uso da un uso per ufficio come vedete in questo caso la il tracciamento il dpi sono 8000 quindi ha una precisione notevole rispetto al precedente e il costo non è eccessivo sempre con il cavo ovviamente esistono le diverse tipologie anche per il gaming senza senza cavo ovviamente il costo il costo sale e poi l'altra cosa variabile nel caso del gaming per i mouse sono i pulsanti programmabili questo ne ha sei cioè in effetti a ogni pulsante potete programmarlo per eseguire determinate funzioni nell'ambito poi del programma del gestionale che utilizzate questo però richiede una programmazione preventiva stessa cosa riguardo al gaming riguarda le tastiere le tastiere per il gaming hanno dei tasti diversi hanno una corsa meccanica fanno un po di rumore metallico però sicuramente dal punto di vista qualità costruttiva sono superiori e costano anche un po in più per quanto riguarda una tipologia di mouse qui siamo sempre nell'ambito tra uso ufficio e uso avanzato questo mouse wireless sicuramente è quello più quello più diffuso diciamo ottima qualità costa 60 euro come vedete sia wireless che bluetooth poi le ultime tipologie di mouse in questo caso sempre wireless sempre appartenente alla logitech come vedete questo nuovo tipo verticale verticale che diciamo è una dal punto di vista ergonomico sono stati progettati studiati per ottenere una riduzione dello sforzo muscolare quindi parliamo di un top di gamma 90 euro però diciamo anche per questa tipologia di mouse ne esistono versioni anche dei costi molto più contenuti ovviamente la qualità non è la stessa e diciamo anche l'utilizzo poi non risulta così così agevole come vedete in questo caso un 4000 dpi qui trovate sempre nell'angolo in basso a sinistra il link affiliato per una ricerca rapida adesso veniamo alle pendrive le pendrive un supporto per backup sono supporti che vengono usati spesso per trasferire dei file per eseguire dei backup ultimamente ultimamente sono disponibili questa questa nuova questa nuova fascia di capacità delle pendrive siamo a un terabyte un terabyte questo è un costo molto conveniente e tenete presente però che la disponibilità non è altissima comunque io sotto qui ho messo altri due link alternativi per prodotti simili questo da un terabyte questo invece a destra e da due terabyte però costa 36 36 euro quindi dal punto di vista capacità di archiviazione e costo sono estremamente estremamente convenienti poi invece per chi ha necessità di dover per trasferire file di grosse dimensioni e ha bisogno delle velocità più alte possibili abbiamo questo tipo di hard disk questo è un hard disk ssd esterno di dimensioni contenute è piccolissimo non è molto diciamo non risulta molto più grande di una di una pendrive in sostanza questo don terabyte però come vedete il costo è ben e ben più alto invece per chi ha bisogno di maggior spazio ovviamente in questo caso non parliamo di un supporto di un hard disk per backup trasportabile perché diciamo è da 3,5 pollici questo all'interno questo tipo di supporto contiene un hard disk non allo stato non allo stato solido ma un hard disk meccanico il costo comunque è competitivo perché tenete presente vedete c'è un risparmio del 22 per cento perché tenete presente che mediamente il costo per terabyte è di 20 euro quindi dovete sempre avere considerare questo ogni terabyte costo di 20 20 euro per chi ha necessità di sostituire l'hard disk all'interno del nuovo notebook o del proprio pc vuol fare l'upgrade nei video precedenti e ho segnalato un disco da 240 gigabyte in questo vi segnalo un disco da 960 gigabyte da un terabyte come vedete qui anche c'è un risparmio sostanziale notevole 960 gigabyte sarebbe un terabyte un terabyte una volta sostituito il disco interamente al notebook o al pc fisso l'hard disk poi che resta lo si può utilizzare inserendo come unità creare un'unità di backup inserendolo in queste custodie esterne per disco rigido questa è una custodia da 2,5 pollici 2,5 pollici sarebbe il disco che in genere sono presenti nei notebook invece per i disc dei dischi hard disk dei desktop dei computer fissi che sono da 3,5 pollici e sono disponibili queste custodie queste custodie più grandi che qualcosa importante dispongono anche di un'alimentazione autonoma si collegano entrambe tramite connessione usb 3.0 che comunque una connessione ad alta velocità ovviamente in questo tipo di supporti come dice qui le caratteristiche del prodotto potete inserire anche dei dischi ssd veniamo alla webcam webcam diciamo in questo ultimo periodo sono andate a ruba per la telemedicina sono un accessorio indispensabile io qui recensisco questo della logitech che sicuramente come prezzo prestazioni migliore ci sono anche molto più avanzate però questo sicuramente è un'ottima è un'ottima soluzione un'ottima via di mezzo poi per chi vuole risparmiare esistono anche soluzioni economiche da da 18 euro anche queste si collegano con una connessione usb al computer veniamo a questa nuova tipologia di prodotti che sono delle lampade per monitor le lampade per monitor sono studiate per ottenere la migliore visualizzazione possibile per evitare il riflesso sul monitor che per chi diciamo sta davanti al computer davanti al monitor molte ore al giorno poi alla fine può risultare particolarmente fastidioso e impegnativo il gruppo di continuità il gruppo di continuità qui nel recensisco uno solo da 1400 volt ampere il gruppo di continuità che cos'è in sostanza è una batteria che in caso di emergenza in caso vada via la corrente il gruppo di continuità fornisce alimentazione al computer conviene collegare al gruppo di continuità soltanto il computer e il monitor in genere questo tipo di supporti servono a consentire all'utente in caso vada via la corrente il tempo di spegnere il computer e di non rovinare il computer questo ovviamente il gruppo di continuità diciamo serve esclusivamente per i computer fissi ma per i notebook che dispongono di una batteria può diciamo anche risultare diciamo inutile per chi è interessato ad assistenza o alla realizzazione di soluzioni personalizzate riguardo alle periferiche può come al solito scrivere un'email con oggetto periferica info-ricchiogenaro.it io vi ringrazio per l'attenzione